L'erfervescenza particolarmente estiva di Sassoferrato si istituisce particolarmente sindaco Ugo Pesciarelli in questa bella mostra le 500. Sì, è un'iniziativa veramente importante, di eccellenza direi, patrocinata dal Comune di Sassoferrato e su iniziativa dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni Bartolo a Sassoferrato che da alcuni anni sta appunto lavorando e promuovendo l'immagine di Bartolo con convegni, con approfondimenti. Questa ha una duplice valenza perché fra l'altro queste 500 sono proprietà del Comune di Sassoferrato, sono costruite nella nostra biblioteca, quindi è una valorizzazione anche del nostro grande patrimonio culturale di cui siamo possessori e che troppo spesso rimangono rinchiusi nei locali angusti degli archivi. Invece è un'occasione per renderli fruibili anche al pubblico. Bartolo è un grande giurista, forse il più grande giurista italiano, e che ha avuto i Natali a Sassoferrato, quindi era un debito, diciamo, verso un grande protagonista della cultura giuridica occidentale, fare alcune iniziative che possano creare nuovamente attenzione attorno a questa figura. In Italia, attraverso l'Istituto Internazionale di Studi Piceni, Bartolo da Sassoferrato, che da alcuni anni ha programmato, ha messo in cantiere alcune iniziative che si svilupperanno nel corso dei prossimi mesi e anche dei prossimi anni, attraverso un comitato scientifico di alto profilo dove ci saranno dei professori universitari, dei magistrati ed altre persone. Quindi abbiamo iniziato con questa mostra, una mostra di cinquecentine, che sono dei volumi che sono stati pubblicati appunto nel Cinquecento e che erano conservati nella Biblioteca Comunale di Sassoferrato. Sono 35 volumi di opere bartoliane che sono state stampate nel corso di questo secolo XVI e diciamo che la rilevanza di Bartolo passa anche attraverso la grande diffusione dei suoi volumi che erano molto apprezzati dagli studenti nelle università europee e quindi è una figura di altissimo profilo. Quindi questa piccola città deve appunto promuovere queste radici profonde che non sono solo nell'arte con i Giambattista Salvi ma sono anche nel diritto perché Bartolo è iniziato proprio qui al convento di San Francesco ha avuto le prime erudizioni giuridiche dal francescano Fra Pietro di Assisi che poi l'ha proiettato su Perugia dove ha continuato la formazione e poi da Perugia è passata a Bologna, a Pisa e poi è ritornata a Perugia e quindi è una figura di grandissimo rilievo. Per questo abbiamo pensato di fare questa mostra che secondo noi è comunque significativa perché dà conto anche dell'interesse che la città ha avuto in passato perché poi sono libri preziosi che sono stati raccolti e che erano conservati nella biblioteca comunale. Da Sassoferrato alla Mondo dicevamo chi tornerà ad essere e che cosa dovrà rimanere in tema di profonda sensibilità della materia? Ma Bartolo ha fatto delle riflessioni nella sua interpretazione del diritto del Corpus Iuris Civitis molto interessanti, è stato uno dei grandi interpreti del diritto romano che ha cercato di adeguare alle condizioni nuove, quindi la civiltà dei comuni. Ci sono alcune affermazioni, alcune riflessioni di Bartolo che datano sette secoli ormai, 1313-1357, quindi delle riflessioni degli anni 40-50 che mostrano anche una loro attualità oggi, per esempio il rapporto tra sovranità nazionale e organi internazionali, cioè Bartolo sosteneva già allora che un diritto sovranazionale non può essere imposto all'interno di un singolo Stato ma deve essere adattato alle situazioni dei singoli Stati e non imposto come una regola non tenendo conto delle condizioni quindi questa è un problema anche di oggi con l'Europa con il fatto che dobbiamo rispettare insomma delle regole che sono imposte a livello internazionale e ci dobbiamo adeguarsi. Ecco, Bartolo sosteneva che questo non va bene e che bisogna fare una mediazione tra le esigenze della sovranità nazionale e quelle di una norma che vale anche per altri Stati, non solo per il nostro. Questo è uno degli aspetti. Poi anche il suo modo di interpretare il diritto, il suo metodo di lavoro è sicuramente interessante per i giovani, i giovani nelle università ci sono nelle facoltà giuridiche c'è un insegnamento che è storia del diritto medievale e moderno dove la figura di Bartolo è una figura centrale. Nel comitato scientifico del nostro istituto per le cose bartoliane abbiamo il più grande studioso italiano, forse la persona che è più autorevole negli studi bartoliani che è Quaglioni dell'Università di Trento, Diego Quaglioni e che sarà probabilmente presidente di questo comitato scientifico per le iniziative su Bartolo. E' stato tra i relatori nel momento dell'apertura della mostra che sarà aperta fino a... Dunque la mostra abbiamo inaugurata il 21 luglio e sarà aperta fino al 19 agosto un periodo breve che coincide con l'estate ma insomma era importante farla poi speriamoci sia anche una partecipazione, una frequentazione della mostra da parte dei cittadini prima di tutto che devono conoscere Bartolo, dei sassoferadesi ma anche delle altre persone del territorio e da quelli che vengono in questo centro di collina ritornano nel periodo estivo per passare anche alcune settimane di ferie. Potesse esprimersi oggi Bartolo in questa situazione che direbbe? Ma direbbe che il diritto viene prima della politica, quindi che bisogna ripartire insomma dalle questioni delle regole che disciplinano la vita degli individui in comunità e da quelle poi fare diciamo una operazione politica di distribuzione, di ripartizione risorse ma bisogna tornare a una coscienza giuridica che abbiamo un po' perso insomma per cui ho un diritto vero non un diritto solo come sistemazione dei conflitti ma un diritto che ritorna alle ragioni profonde dell'esperienza umana, un diritto che si collega con le istanze morali e con tutto quello che rende diciamo la riflessione umanistica più forte, più fondata. In un ciclo che parte dalla persona e alla persona ritorna? Indubbiamente sì, sì, Bartolo aveva una forte sensibilità, diciamo una grande riconoscenza anche per le persone che l'avevano proiettato in questo orizzonte degli studi giuridici. È vero che nel suo testamento per esempio destina molti dei suoi veri a Sessoferrato, alle persone, ai francescani di Sessoferrato, stabilisce che se fosse morto fuori di Perugia doveva essere sepolto nella chiesa di San Francesco dove ha ricevuto le prime erudizioni in campo, in ambito giuridico e mettendo in evidenza una fortissima predisposizione in questo tipo di studi che poi si è sviluppata fino al punto che abbiamo detto. Paolo Mastri perché tutto così in fretta? Perché in 55 giorni, che poi sono i 55 giorni del caso Moro, succede in questa finzione narrativa anche molto altro. Questo molto altro ha a che fare con il miracolo economico di una città che è Pescara che scopre proprio in quei giorni, grazie a un delitto eccellente, diciamo il suo segreto inconfessabile, questa storia si dipana in parallelo alla storia vera e reale e ricostruita fedelmente del caso Moro. Perché qui a Sassoferrato? Beh, qui mi hanno invitato e ho accettato di buon grado. Sassoferrato è un paese al quale sono molto legato, il paese da cui ha origine la mia famiglia e in cui ho vissuto metà del mio tempo per tutta la parte più bella della vita, c'era quella fino a vent'anni. Metà del mio tempo significa tutte le estati, tutte le feste, tutti questi periodi. Tornando e ritornando che effetto fa? Con un occhio al passato e un altro al futuro? Sassoferrato fa sempre un bellissimo effetto, come tutti i luoghi dell'anima. È un borgo molto bello e noi lo sappiamo. Adesso è certificato tra i borghi più belli d'Italia, quindi ci sarà modo di farlo sapere e io spero che abbia un futuro nel segno della valorizzazione. Tutto così in fretta, la locandina, il manifesto in giallo? Beh, in giallo perché in questo libro si fa un po' fatica a definirlo. Diciamo, a istinto, la suggestione cromatica è quella del giallo perché le categorie sono le categorie poliziesche, c'è dell'investigazione, il protagonista è un investigatore, c'è un mistero da scoprire. Non è detto che questo mistero si scopra al pari della vicenda guida, che è il caso Moro. Insomma, sia pur risolto, lascia ancora molte zone d'ombra. Il giallo è una chiave di lettura, ma fra le tante che ho sentito, quella che a me piace di più è il romanzo civile. Grazie. 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 Grazie.